Campo e palestra con obiettivi separati, il potenziamento, il lavoro sul fondo, la tecnica e anche il possesso palla, così Vincenzo Montella prepara la sfida contro la sua ex squadra il Catania che scenderà in campo al Franchi domenica alle 3, intanto assenti ancora i nazionali per la giornata di oggi, molti di loro saranno impegnati infatti con le rispettive compagini da domani dovrebbero rientrare in gruppo, almeno dovrebbero rientrare a Firenze Si lavora con intensità e anche grande concentrazione però non manca qualche piccolo colpo di genio come questo, chiamato Borca Valera che poi si prende gli applausi anche un 5 da Nicola Caccia Musica 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 Grazie a tutti.